Benvenuti nel mondo degli orologi Zantoliver. Zantoliver è un marchio tedesco di moda e orologi, fondato nel 1969 da Bernd Freyja. Inizialmente specializzato nell'abbigliamento, il marchio si è poi espanso anche nel settore degli orologi, diventando uno dei marchi più apprezzati in tutto il mondo. Gli orologi Zantoliver si distinguono per il loro design moderno e alla moda, che si adatta perfettamente al look urbano e contemporaneo. Ogni orologio Zantoliver è realizzato con i migliori materiali, utilizzando tecniche di lavorazione all'avanguardia per garantire la massima qualità e durata nel tempo. Il marchio offre una vasta gamma di orologi, dai più classici ai più innovativi e alla moda. Tra i modelli più apprezzati ci sono gli orologi con cinturino in pelle, con cassa in acciaio inossidabile e con quadranti dalle forme e dai colori vari, tutti pensati per soddisfare le esigenze di chi cerca un orologio di alta qualità e alla moda. Gli orologi Zantoliver sono anche dotati di funzioni avanzate, come il cronografo e il calendario, che li rendono ancora più funzionali e pratici da utilizzare. Inoltre, molti modelli sono resistenti all'acqua, garantendo una maggiore durata nel tempo anche in presenza di acqua o umidità. Il rapporto qualità-prezzo dei prodotti Zantoliver è molto competitivo, grazie alla cura dei dettagli nella progettazione e nella realizzazione. Grazie al design moderno e alla moda, gli orologi Zantoliver si adattano perfettamente a qualsiasi look e occasione, diventando un must-have per chi cerca un orologio di alta qualità e alla moda. L'ampia gamma di modelli proposti dal marchio include orologi da polso per uomo, donna e bambino, adatti a diverse esigenze e gusti. Tra i modelli più apprezzati ci sono gli orologi con cassa in acciaio inossidabile e cinturino in pelle, perfetti per un look elegante e raffinato. Molti modelli sono dotati di una funzione cronografo, che consente di misurare il tempo con precisione, mentre altri sono caratterizzati da un design più sportivo e informale. Grazie a tutti.